Che vuoi? Loredana Lecciso vs. Albano, ecco perché sono scappata da Cellino Domenica Live, le immagini del Capodanno targato Rai 1, trascorso da Albano con Romina Power Nelle ultime ore, spopolano online le esclusive immagini dellospitata televisiva di Cancelletto Loredana Lecciso, avvenuta nel salottino del talk show Cancelletto Domenica Live, un programma condotto da Barbara D'Urso, ecco cosa ha dichiarato la showgirl circa la notizia che la vede lontana da Cancelletto Albano Albano, non ha avuto tatto, ecco perché ci siamo allontanati A pochi minuti dalla messa in onda della tesa ospitata televisiva di Loredana Lecciso, tenutasi nello studio di Domenica Live, in data 28 gennaio 2018, sembra che non si parli d'altro, nelle ultime settimane, a tenere banco nel mondo del gossip made in Italy è prevalentemente il rumor che vede la sinuosa Loredana Lecciso allontanarsi dalla casa sita Cellino San Marco, nella quale ha convissuto a lungo insieme ad Albano Nel corso dell'ultima intervista rilasciata dalla Magnetica Loredana, dinanzi alle telecamere di Domenica Live, un programma condotto dalla vulcanica Barbara D'Urso, la Lecciso ha voluto fare chiarezza circa la sua posizione in merito alla sua scelta di separarsi dal cantante pugliese Non mi è piaciuta la mancanza di tatto, il 2017 non è stato un buon anno per entrambi, lui ha avuto dei problemi di salute, che però ci hanno tenuti uniti più di prima, queste ultime sono solo alcune delle parole rilasciate dalla Show Girl in data odierna, video, dinanzi alle telecamere del talk show Domenicale La produzione del talk ha mandato in onda un rvm contenente le esclusive immagini che immortalano Romina Power in compagnia di Albano, questi ultimi sono apparsi sul palcoscenico dell'anno che verrà, il capodanno di Rai 1 recentemente condotto da Amadeus Non ho mai capito l'ironia della Power, come quando Romina ad Antonella Clerici disse Io ed Albano ci baciamo di nascosto, ha recentemente dichiarato la conduttrice Rita dalla Chiesa, schierandosi dalla parte di Loredana e scagliandosi contro la Power, video, madre di Ilenia, figlia di Albano, drammaticamente scomparsa nel lontano 1993 Una vicenda che ha segnato nel profondo l'ex coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power Io ed Albano non ci siamo lasciati, ci siamo presi una pausa di riflessione, ha chiarito la Lecciso a Domenica Live. Dopo 18 anni di amore e due figli, per Loredana Lecciso ed Albano potrebbe molto presto tornare il sereno Per ricevere le principali news di tv e gossip, basta continuare a seguire il portale web ufficiale di Blasting News Italia .